Cari sorelle e fratelli all'ascolto, oggi vi invito a raccoglierci alla presenza del Signore ascoltando il Salmo 14. Come il salmista anche noi siamo spaventati da che cosa sta succedendo nel mondo, dall'egoismo, dalla violenza, dall'indifferenza che dilaga. Il che fare del salmista è anche il nostro, ma oltre allo smarrimento dovremo riuscire a fare nostra anche la sua speranza, espressa alla fine della sua preghiera. Lo stolto ha detto in cuor suo non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano il Signore? Ma ecco sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Voi cercate di confondere le speranze del misero perché il Signore è il suo rifugio. O chi darà da Sion la salvezza a Israele? Quando il Signore farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Preghiamo. Signore, come il salmista abbiamo paura. Siamo spesso sfiduciati, siamo spesso stufe. Dacci la stessa forza del salmista per non abbandonare la speranza nella Tua vicinanza. Amen. Signore, come il salmista per non abbandonare la speranza nella Tua vicinanza. Signore, come il salmista per non abbandonare la Tua vicinanza. Signore, come il salmista per non abbandonare la Tua vicinanza. Ma tu darmi all'omini chiede, dei nemici tuoi lo so. A che vale la tua fede, il tuo Dio ti lascia al sol. E l'illuvio notte lì, il me penetra così, che esiste più non gioca, al torrente della prova. O mio cuore non dubitare, ma confida nel tuo re. Quando è sempre più tardare, non temere gli è con te. L'oratezza mi verrà, che vittoria ti darà. E all'Itio, tre volte santo, scioglierai il nome e un canto. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, oggi vorrei leggere e commentare insieme a voi la moltiplicazione dei pani nella versione di Giovanni al capitolo 6, versetti 1-15. Dopo queste cose, Gesù se ne andò dall'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo Dove compreremo il pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose, duecento denari di pani non basteranno perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cosa sono per tanta gente? Gesù disse, fateli sedere, c'è la molta erba in quell'uovo. La gente dunque si sedette ed erano circa cinquemila persone. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta, lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono soziati, disse ai suoi discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e li empirono dodici ceste di pezzi, che di quei cinque pani d'orzo erano avanzati, a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, questi è certo il profeta che deve venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Il Signore benedica la lettura della sua parola. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, non so quante volte ho già sentito questo testo, ma tutte le volte che lo leggo non smette mai di sorprendermi. Gesù che mette alla prova Filippo i duecento denari che non bastano anche se sono una somma enorme. La folla che, nonostante l'ora tarda, continua a seguire Gesù senza preoccuparsi di dover mangiare. E poi il miracolo finale. Ma facciamo un passo alla volta. A guardare bene, la prova alla quale è sottoposto Filippo è davvero assurda, dato che nessuno avrebbe potuto superarla. Chi di noi avrebbe potuto immaginare che un miracolo si compisse? E Filippo non è certamente meglio di noi. Anzi, nella concitazione del momento, come poteva dare la risposta giusta? Ma forse la domanda che Giovanni mette in bocca a Gesù nasconde una provocazione. Forse la domanda vera che si cela sotto le parole di Gesù è un'altra, e cioè tu che stai leggendo riesci a fidarti di Dio come faccio io anche nei momenti di difficoltà? Il testo di oggi sembra partire dicendoci che per capire quello che leggiamo bisogna fidarsi di Dio, bisogna saperlo vicino a noi, bisogna sentirlo vicino. Questo testo non ha senso senza la fiducia. E la fiducia è l'ingrediente che manca a Filippo quando si rende conto che nemmeno 200 denari, che lo ripeto sono tantissimi, basterebbero per far mangiare tutte quelle persone, lasciando così un che fare sospeso, apparentemente senza soluzione. Insomma, sembra dirci Filippo, perché tutta questa gente non si è portata da mangiare? E perché, caro Gesù, non hai tenuto conto del tempo che passava? Se il solito rompi scatole, quando ti metti a parlare non la finisci più, e poi siamo noi discepoli che dobbiamo risolvere i pasticci che combini. Uffa! Però, in qualche modo, il problema dobbiamo risolverlo, avranno pensato i discepoli. E così avranno cominciato a chiedere se qualcuno degli astanti avesse qualcosa da condividere, ma senza successo. Fino a che? Fino a che qualcosa non cambia. Qualcuno dei convenuti mette a disposizione ciò che ha. Qualcosa cambia quando qualcuno si fa partecipante attivo. Il testo parla chiaro. Senza la nostra partecipazione nessun miracolo può manifestarsi. Se nessuno di quelli e quelle che ascoltavano Gesù avesse condiviso quello che aveva, Gesù non avrebbe potuto moltiplicare proprio niente, perché, come sapete dalle scuole elementari, qualsiasi numero moltiplicato per zero dà come risultato zero. Il testo è lapidario. Se non lasciamo entrare Cristo nella nostra vita, se non permettiamo allo Spirito Santo di pervadere la nostra vita, non possiamo pretendere che questa cambi. E perché questo accada, non c'è somma di denaro che serva. Ecco perché non bastano nemmeno duecento denari. Il regno di Dio promesso da Gesù non si può comprare. Essere parte del regno di Dio significa parteciparvi direttamente. E come il misterioso personaggio del racconto del Vangelo di Giovanni mette a disposizione tutto ciò che si ha, tutti i nostri talenti, tutte le nostre energie. Ma attenzione, non è una questione di quantità. Così come certamente i pani e i pesci messi a disposizione dal nostro volenteroso partecipante alla riunione non sono sufficienti per sfamare tutti e tutte le partecipanti, anche i nostri sforzi non bastano per realizzare un miracolo, non bastano per realizzare le promesse che Dio ci fa. Ma è proprio in questo vuoto, è proprio nell'apparente impossibilità alla quale ci mette di fronte questo testo che si può realizzare un miracolo nella nostra esistenza. infatti è in questo vuoto, in questa impossibilità apparente alla quale la nostra vita ci mette di fronte che Dio può inserirsi per cambiare le carte in tavola. Come nel nostro racconto, la buona volontà del personaggio diventa la leva sulla quale il miracolo fa presa, così nella nostra vita il nostro impegno, la nostra tenacia, la nostra speranza, la nostra fiducia in Dio possono essere l'inizio di un cambio di prospettiva, possono essere la testimonianza viva della presenza di Dio nella nostra vita che come una reazione a catena può diffondersi agli altri e alle altre che incontriamo per strada. Proprio come i pani e i pesci nel nostro racconto che da pochi sono diventati molti anzi moltissimo tanto da avanzarne. Anche in questo il testo evangelico ci sorprende. La grazia di Dio ci dice non è solo gratuita, Gesù non si fa pagare, ma è anche sovrabbondante. Gesù non chiede quanti pani o pesci volete. Già, perché la presenza di Dio nel racconto e nelle nostre vite non è alla carte, non è un menù, non si misura a portate, o è tutto o non è niente. Se accettiamo la sfida come coraggiosamente ha fatto il nostro misterioso volontario, non possiamo più tornare indietro. la grazia di Dio non ha misura, è totale. La grazia di Dio ci permette di superare le barriere, la grazia di Dio ci permette di superare i nostri egoismi e la grazia di Dio che permette al misterioso ragazzo del nostro racconto di condividere il poco che ha senza temere che gli altri, quelli che sono lì con lui, si trasformino in ladri o in approfittatrici. Le cose che lui condivide sono lì a disposizione di tutti e di tutte, e perciò anche sua. Nella grazia di Dio la condivisione non è sottrazione, ma una moltiplicazione. Ecco l'invito che ci rivolge questo racconto. Ecco che cosa ci invita a fare, a condividere senza paura, a rinunciare ai nostri piccoli privilegi, come fa il nostro misterioso protagonista che mette a disposizione il poco che ha, rinunciando pericolosamente ad averne abbastanza per lui. Il nome di qualcosa di più grande. Lo so, caro fratello e sorella che mi stai ascoltando, che c'è una domanda che rimane aperta, c'è una questione che rimane in sospeso. E se il nostro impegno non porta a niente? E se la nostra rinuncia rimane inascoltata? E se la nostra denuncia di questo mondo che ha fame, come i personaggi del racconto, cade nel vuoto? E se le cose alle quali abbiamo rinunciato non si moltiplicano? Io credo, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, che questi dubbi li avesse anche il misterioso volontario del nostro racconto. Ma come la sua, speriamo che anche la nostra speranza venga soddisfatta, perché siamo certi e sicure, come lui e lui che ha conosciuto Gesù, che la compagnia di Dio non venga mai meno. Allora perché non tentare? Perché non tentare di rompere l'equazione che mette sullo stesso piano salvezza ed egoismo? Perché non tentare, per usare il linguaggio del racconto, di rompere l'equazione siamo troppi, uguale non abbiamo abbastanza da mangiare? È possibile fare altrimenti cambiando la prospettiva? Il testo ci dice di sì, ma solo con la compagnia di Dio, solo per grazia sua. I miracoli di Gesù non sono mai fini a se stessi, non servono perché lui possa diventare più famoso, possa mostrare la sua grandezza. Così anche questo non ha senso, se lo leggiamo solo come un segno soprannaturale. Se fosse solo questo, in effetti, servirebbe solo a scoraggiarci. Non siamo mica Gesù, no? Se il Vangelo non servisse per indicarci una strada, se non servisse per proporci uno sguardo diverso sulla nostra vita, sarebbe solo l'occasione, anche se non del tutto inutile, per ricordarci quanto siamo distratti, distratte, egoiste e insensibili. Ma qui c'è altro, c'è una piccola azione, fatta da parte di uno sconosciuto, che diventa l'occasione per rivelare la potenza inarrestabile del Regno di Dio. E perché questo non può essere vero anche nelle nostre piccole vite? All'accompagnia di Gesù, il Figlio di Dio, sembra dirci il testo, ogni azione, per quanto piccola, diventa importante. ecco forse il miracolo vero che ci racconta questo testo. In compagnia di Dio, tutto ciò che sembra essere impossibile, diventa possibile, grazie a due cose sole. La grazia di Dio, che qui si manifesta in un miracolo di Gesù, è il nostro impegno, per quanto piccolo, proprio come piccola è stata l'offerta del nostro sconosciuto protagonista. Con queste due semplici cose, ogni apparente sottrazione potrà diventare un'infinita moltiplicazione. Amen. Vieni in mezzo a noi, mio liberatore, ci racconti in tutto il tuo grande amore, non lasciaci più, con terra e testa, ogni giorno è testa, se non mai sei tu. Se tu vuoi signor, sia tuoi testimoni, anche il nostro cuore, tu vuoi rinnovare, nella tua volontà, dacci un'avvenire, anche il nostro agire, gloria a te carà. Dacci il vero e te, Dio della speranza, ogni nostro odio, sia con per la danza, rinnovi in te, tu puoi trasformare, in un'attenzione di fraternità. O Dio, accogli le nostre preghiere che timidamente ti rivolgiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri libitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Aiutaci, oh Signore, affinché le parole dette e le preghiere fatte, grazie alla tua vicinanza, possano moltiplicare veramente i doni che tu incessantemente elargisci. Dunque, con la certezza del perdono e la vicinanza di Dio, come ci insegna Gesù, andate per tutto il mondo e praticate il Vangelo ad ogni creatura. Con questo impegno scolpito nei nostri cuori, ci benedica il Dio della libertà, della pace e della giustizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buona settimana. Grazie a tutti.